Sono passati 140 anni dalla scomparsa di Giuseppe De Nittis, l'artista varlettano diventato uno dei simboli nel mondo del movimento artistico impressionista. Quasi tre lustri dopo la sua morte, l'artista viene celebrato nella sua terra natia, aprendo alla cittadinanza le porte di Palazzo della Marra, sede della Pinacoteca dedicata all'impressionista pugliese, con delle visite serali dalle 20 alle 24. 140 anni dalla scomparsa del nostro concettatore De Nittis, il pittore che incantò il suo tempo e continua a incantare chi ama la grande pittura. Barletta lo celebra permettendo di visitare questa meravigliosa collezione proprietà del comune nella Pinacoteca De Nittis a Palazzo della Marra e un modo per ricordare il nostro pittore in attesa dei grandi eventi che stiamo organizzando per celebrare Giuseppe De Nittis e la sua meravigliosa arte.